che cos'è posso fare scherzo sto facendo il corner ok direi che posso iniziare bello a tutti ragazzi benvenuti a questo video sono thaij oggi siamo sul terzo episodio del corno scusate ragazzi se il sabato non ho fatto video quindi mi scuso e siamo su questo terzo video che oggi e oggi faij ha fatto il centesimo episodio di epilz e come posso dire oggi non so parlare però dai iniziamo il falz eccetera eccetera aspetta che questo perché oggi ho cagato è un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.